Sono una ragazza 2007, aveva detto Monica Larner sulle degustazioni del Brunello 2007 dello scorso anno che aveva fatto sempre alla sede del Consorzio del Brunello di Montalcino. Ma sentiamo quest'anno come è il Brunello 2008, quali sono le prime anticipazioni della Larner, la corrispondente europea di Wine Enthusiast? Rimango sempre una ragazza 2007, sto facendo proprio adesso le riserve 2007 che sono dei vini fantastici, sono veramente felicissima. Il 2008 invece è molto diverso, dopo l'eleganza del 2006 e poi la generosità del 2007, il 2008 è molto più austero, forse ancora più chiusa, sono molto giovani adesso. È un po', per fare una battuta, il governo Monti del vino, perché è austero, non ha molto generosità, un po' nervoso, ha un tannino, il tannino è bello, bello fermo, ma c'è un'acidità molto molto spigoloso ancora, molto molto nervoso. Un vino nervoso, con molta acidità, ci sono dei Brunello diversi dagli altri, quali sono state le zone privilegiate? Ma sì, sicuramente, infatti il 2008 è una nata strana, perché alcune zone hanno sofferto anche di grandire, e dalle degustazioni che io ho fatto, ho visto che già quel tocco di calore in più, oppure forse le zone un pochino più basse, oppure dipende anche dal terreno, hanno un po' più di polpa, di frutta, e quello aiuta molto per contrastare questa acidità molto forte. Infatti i vini del 2008, che mi sono piaciuti di più, sono quelli che sono più bilanciati tra la frutta, una frutta fresca di ciliegia bella piena, con l'acidità, perché bisogna avere i due elementi insieme. Se il 2008 è il governo Monti del vino, un'anticipazione, come sono le riserve? Sono veramente bellissimi, sono quasi un'utopia.